Capioli, capioli! A che roba? Madonna! Vedi come so? Che c'è il targente in bici? Oggi credo mia tanti Andiamo! La scuola è la scuola abbiamo sbagliato casare ok l'ho detto che era un casin qua ma il tronchetto lì che aveva proprio un chieda giurassic se no che deve ancora imparare a fare i piattoni fatibè qua per arrivare ai nostri livelli